E adesso un altro momento particolare, ora signor Sindaco è vero, da un comune arrivano sia le lodi che le critiche, a volte voglio dire accettiamo A volte critiche, ma ci stanno qualcosa, è normale, giusto? Ecco, ci sono le critiche però voglio dire, quando una critica è costruttiva però comunque bisogna dar atto che bisogna è Quella proprio distruttiva, quella proprio, è tremenda, noi invece delle critiche adesso in questo preciso momento non ce ne frega niente Perché la signora che sta per entrare qui sul palco non fa critiche, fa diciamo dei poemi, delle poesie dedicate al suo paese E allora facciamola entrare, la signora Farinelli Nella E allora io invito la nostra simpaticissima Ecco qua, c'è anche la motivazione, c'è il microfono il Sindaco? Ah, c'era perché la motivazione, diamo così la legge Semplice però, poche parole ma dicono tutto Per le semplici ma incisive espressioni poetiche dedicate ad Avecchio, al nostro territorio Grazie Nella, un bel applauso, un bel applauso a Nella Ok, e adesso, e adesso signori e signori siamo in vena così andiamo diretti, andiamo alla premiazione di quello che è il vino No, no, no No, no, no Grazie a tutti.